Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Due Punti Oggi parleremo di eventi Musica Musica Il discorso è sempre l'equilibrio La parte frontale rimaniamo al centro Riprendendo nuovamente la frangia ma in maniera molto leggera E a questa aggiungiamo un po' di lunghezza esterna Ora guardate una cosa volevo farvi notare a proposito di posizionamento Per sempre per quanto riguarda quella storia là, degli angoli Vedete? Con questo sistema di scalatore viene pure in automatico Un colpo, pum, e fa Si tratta di un progetto, noi amiamo definirlo di start up Ma il concetto di start up che cos'è? Non è un qualcosa dove si inizia da zero È una introduzione a tutto quello che già è il pacchetto di informazioni Di conoscenza che noi parrucchieri abbiamo Attraverso un metodo Il metodo non è nient'altro che l'ABC del taglio, l'ABC del colore È una sorta di codifica Quindi un modo come capire, imparare, avvestire la testa E quindi attraverso dei tagli e dei colori fatti su misura Siamo orgogliosissimi di avere finalmente un polo Cosiddetto nel nostro gergo formativo di The Club in Calabria Finalmente è nato, quindi in Italia cosa manca? La Val d'Aosta Poi grazie a Dio siamo veramente presenti su tutto il territorio La Calabria è una terra che sforna grandi creativi, grandi artisti Noi siamo nient'altro che una leva per mettere in evidenza questi personaggi All'interno del training center di Lamezia Terma, del fashion training center Abbiamo una serie di attività che non si limitano soltanto all'erogazione di formazione da parte di gruppi Ma c'è anche una pianificazione molto fit di seminari tecnico-stilistici e anche manageriali Diciamo che questa è la dimostrazione che Vella sempre più investe in Calabria La Calabria è una fucina di talenti e noi intendiamo sviluppare questa regione E nei prossimi mesi ci saranno una serie di iniziative e di attività Che daranno proprio il senso di quello che io vi sto dicendo Oggi sono qui in Calabria con i miei colleghi per parlare di un metodo Vella E per fare formazione proprio sul metodo Vella Ovvero un metodo che consente lo sviluppo dei saloni e quindi lo sviluppo dei nostri clienti Vella da sempre partner dei nostri clienti e negli ultimi anni sta lavorando sempre di più Con la propria forza vendita proprio affinché il nostro agente sia un consulente di sviluppo del business E dei nostri clienti e quindi oggi sono appunto qui in Calabria Proprio per attuare un piano di formazione che vada proprio a rinforzare lo sviluppo dei clienti Lo sviluppo in partnership con i nostri clienti Proprio in un rapporto appunto di consulenza Ciao a tutti, sono la nuova coordinatrice The Club Calabria Siamo al polo di Lamezia e vi presento gli associati The Club Ciao, sono Lucia Revolution, vengo da Siderno E vi aspetto in The Club Ciao, sono Jessica Fassino Donna e vi aspetto in The Club Ciao a tutti, sono Antonella Ermoda Fazio, vengo dalla Mezia Terme Vi aspetto in The Club Ciao a tutti, sono Mattia Sicilia, sono di Roggiano Gravino Vi aspetto in The Club Ciao a tutti, sono Antonella di De Prela Testa, di Figline Vegliaturo Vi aspetto in The Club Sono Salvatore Vildo, Air Love's Beauty e vi aspetto in The Club Ciao, sono Giuseppe e Natale Parrucchieri Vi aspetto in The Club Siamo Valente Parrucchieri, vi aspettiamo in The Club Buongiorno, sono Enza, siamo felici di far parte di questo Best Club E Sarottino di Tiriolo Ciao, io sono Maria Teresa Benvenuta con bellezza e tendenza, entriamo a far parte con The Club Salve a tutti, sono l'unico intruso in questo gruppo oggi Io vengo da Manduria, dal Salento, faccio parte del team di Tony Pellegrino, di The Club E ci auguriamo a tutti di lavorare tanto e grande The Club Buongiorno, sono Natalia Giuseppe Parrucchieri Ci troviamo a Rende e vi aspettiamo con The Club Ciao Ciao Ciao